Ciao a tutti e oggi andiamo a parlare di salvataggi. Salvataggi, avete visto, c'è la copertina, c'è la mia foto da bagnino con tanto di salvagente per cui cerchiamo di fare qualche salvataggio. Per questa parte voglio farvi vedere come io gestisco i salvataggi delle mie attività che faccio su Lightburn per non avere delle sorprese perché ultimamente sono stato contattato da alcuni di voi e non trovavano più le librerie dei materiali, non trovavano più le librerie delle arti, eccetera, eccetera e mi dicevano, oddio non le trovo più, come fare? Allora, innanzitutto vi faccio vedere con una breve carrellata qual è il sistema di backup automatico che ha Lightburn vi faccio vedere dove va a mettere determinate informazioni dove non va a mettere determinate informazioni e che è ancora meglio saperlo e come mi comporto io e uso questo metodo da anni e non ho mai avuto problematiche nel reperire i dati e adesso ve lo faccio vedere Allora, andiamo nel menu File e da File vediamo che qui sotto abbiamo apri cartella preferiti poi abbiamo export prefs, cioè exporta le preferenze importa le preferenze e carica il backup delle preferenze andiamo a vedere cosa vuol dire tutto questo iniziamo dalla prima voce, cioè apri cartella preferiti si aprirà questa cartella che è una cartella che Lightburn ha creato nel momento in cui noi l'abbiamo installato e vedete che c'è una cartella di backup poi una cartella di presets poi c'è una cartella che queste sono le hotcase quindi dove mi sono memorizzate le hotcase che abbiamo se le abbiamo cambiate e poi ci sono questi altri due che sono prefs.ini e prefs.ini.hold che sono dei file che servono a Lightburn per andare ad aggiornare e a fare le sue cose cominciamo ad aprire la cartella di backup allora nella cartella di backup se io clicco sopra vediamo altre tre cartelle che sono Legacy che non è altro che praticamente serve del collegamento fra le vecchie versioni di Lightburn in modo vecchio di archiviare le cose e quello nuovo poi Machine Setting che se ne andiamo a aprire ci sono vedete delle informazioni che sono i settaggi della macchina quindi quello va a mettere in quella cartella quello che si deve ricordare quando deve andare a utilizzare il laser che è collegato e poi ci sono le prefs vere e proprie che sono queste e come vedete ce ne sono tantissime sono tutti file letti molto corti da 65 kilobyte quindi sono veramente poca cosa ogni volta che uno entra crea un e fa qualche modifica crea un nuovo file che è diciamo chiamato con la data l'ora e poi il suffisso lbprefs quindi le preferenze di Lightburn vi faccio vedere come era strutturato questo perché è interessante vedere come è strutturato questo per capire cosa mette dentro Lightburn a questi piccolissimi file vado ad aprire l'ultimo e vado ad aprirlo con il blocco note quindi vado ad aprire le modalità nel blocco note vedete mi si apre e viene tutta questa serie di dati che è abbastanza lungo se vediamo ve lo faccio scorrere velocemente ecco ci sono tutta una serie di dati quello che ci interessa è capire quali sono questi dati e praticamente sono quelli che non ci servono non dobbiamo poi doverli salvare noi da qualche altra parte perché tutti i giorni ce ne mette anche più di una versione la prima cosa che mette sono dei dati che gli servono a lui come abbiamo aperto la macchina eccetera eccetera per cui va a vedere queste cose poi va ad aprire le librerie art libraries e vede queste librerie che sono aperte attualmente ve lo faccio vedere ora sposto un attimino questo se mi riesce mi spostano sposto un attimino questo sposto un attimino questo e vi faccio vedere che io ho queste librerie aperte e queste librerie che ho aperto e che mi ha aperto Lightburn altro non sono che queste qua quindi non sono tutte quelle che io ho aperto quindi sono queste qui vedete che vada a tale 4 inizia con animali eccetera eccetera quindi sono solo quelle che io ho caricato in questo momento poi dopo c'è tutta una serie di vedete C00 sono tutti i livelli perché ogni volta che io vado a modificare un livello lui se lo mette se lo memorizza se lo memorizza in quel file per cui è per quello che ci ritroviamo ogni volta che apriamo un livello ci troviamo già delle impostazioni non solo le impostazioni di potenza velocità ma ci sono anche tutte le altre cioè se è una linea se è un riempimento se è un'immagine se è un'immagine che editing gli abbiamo dato a quell'immagine eccetera eccetera le inclinazioni ci sono tutti i dati che sono dentro a quel livello in quel momento quindi se noi andiamo a cambiare un livello qui questo file si andrà a modificare e quindi andrà a rigenerarsi perché dice c'è qualcosa di nuovo andiamo a lo mettere a parte non vi sto a elencare tutto quello che c'è vi dico solamente che questi è come il funzionamento di queste preferenze preferenze sono le preferenze della macchina le preferenze di questo di quell'altro e così via allora questo lo andiamo a prendere ne prendiamo uno lo copiamo e poi vi dico perché cosa faccio in questo momento perché io creo mi sono creato una cartella e consiglio a tutti di farlo perché è il modo migliore per non perdere tanto io mi copio questo file con una copia e chiudo un attimino questo e vi faccio vedere qual è la cartella che io mi sono creato e cosa ci metto dentro allora la cartella che mi sono creato adesso la vado a prendere è la cartella del allora ce l'ho nel desktop è una cartella che si chiama lightburn che è questa ok all'interno di questa cartella io ho altre cartelle che è tutto il materiale che mi serve per lightburn poi allora io vi dico quali sono quelle essenziali a mio avviso però ce n'è qualcuna che potrebbero non essere essenziali o perlomeno per voi per me magari lo sono quindi allora questa è la cartella della libreria delle arti dove c'ho dentro vedete non sono solo quelle 5 o 6 che abbiamo visto qua ma ne ho parecchie ok e quindi questa è la cartella della libreria delle arti poi ho i dati della licenza perché a volte mi conviene averli lì per averli sotto mano c'è la mia chiave di licenza eccetera eccetera vabbè si può prendere tranquillamente dal file ma non vuol dire poi ho i materiali queste sono le mie librerie dei materiali perché ho più librerie un po' perché sono le mie un po' perché magari qualcuno me le ha girate e le ho passate a qualcun altro sono quelli che utilizzo sia per il mio laser ho due teste laser per cui ce n'ho una e una e più ne ho alcune altre un po' disparate che ho preso perché ci sono valori leggermente diversi qui ci sono tutti i miei progetti quindi qui se apro questa vedete ci sono una marea di progetti con cartelle eccetera eccetera se volete tenetele lì se volete tenetele in un'altra parte non è un problema qui ci sono salvataggio delle preferenze dove io vado a copiare adesso quel file di oggi quindi io praticamente adesso ho questo file qui quindi le preferenze me le sto mettendo lì e quindi ho questo piccolo piccola cartellina salvataggio preferenza poi ho questi due che sono due cartelle dei font monolinea lightburn per quel tipo di font se li vogliamo utilizzare mi richiede una cartella mi dice dove c'è lì perché solitamente non sono file di sistema e quindi li tratta a parte ecco queste sono le cose fondamentali secondo me da avere dove dobbiamo memorizzare le nostre librerie delle arti quindi praticamente andiamo dentro a mettere tutti i dati i progettini i disegni eccetera eccetera li mettiamo lì così ce le possiamo caricare nella libreria delle arti poi abbiamo vorrei dire quelli indispensabili per me quindi le arti i materiali e il salvataggio delle preferenze ecco io direi che con questi tre voi siete più che a posto e allora abbiamo tutte le belle nostre cosine belle ordinate messe in una cartellina apposta che possiamo sempre reperirla e sì vabbè dite voi però cosa mi cambia se mi si rompe tutto il computer va in tilt si rompe il disco fisso oppure si rompe guarda l'SSD vabbè potrebbe rompersi anche quella e perdo tutto sì perdi tutto rischi di perdere tutto quindi io consiglio ogni tanto quando vado io a fare quella diciamo quel salvataggio dei miei preferiti che li posso anche al limite se tutto va bene me li posso ritirare su da Lightburn perché io adesso cosa faccio se volessi ritirarmi su un qualcosa di a livello di preferenze e andrò su Lods Pref Backup e vado qua a vedere che macchina in questo caso qui io ho tre macchine e lo faccio vedere perché io lo faccio vedere anche di qua chiudiamo un attimino questo poi ve lo faccio rivedere in laser vedete che io qua ho tre macchine memorizzate quindi se io vado qua su il backup l'ultimo vedete che è quello di stamattina che me lo sono messo già di là e qui mi dice guarda tu hai queste tre macchine e queste sono le tue preferenze quindi praticamente in questo momento io ho questa situazione e mi può caricare tutto quello che io ho in questo in questo file quindi praticamente qui l'ho fatto da solo ogni tanto andiamo a fare questa cosa e cosa facciamo quella cartella di quella cartella che io ho di Lightburn che io ho sul mio computer posso utilizzarla in due modi prima mi faccio una copia su una chiavetta tanto non è che occupi molto perché guardate qui ho più di duemila progetti sui progetti incisori ci sono più di duemila progetti infatti se apro guardate solamente questa nelle proprietà ci sono duemila trecento file con 281 in 281 cartelle ma sono solamente 670 mega quindi non occupa molto spazio e io ce li ho lì però quello non è importante quello che ritengo importante perché magari voi vi ho salvato in un'altra parte però io vi dico come faccio io questo tutto questo che mi occupa non moltissimo vado a vedere le proprietà e mi occupa nemmeno un giga di memoria quindi sono 970 980 megabyte e quindi cosa faccio io questi posso scegliere o carico tutto su una chiavetta e vado a praticamente a ogni tanto a salvarmi qualcosa copio sulla chiavetta o tutto quindi faccio una specie di backup manuale oppure vado solamente a cambiare quelle cose che so di aver cambiato ho cambiato dei progetti sì ho cambiato delle preferenze sì andiamo a cambiare quelle ho cambiato macchina sì ho cambiato librerie vado posso andare a modificare anche solamente l'una l'altra o altrimenti se non volete usare una chiavetta o un disco esterno o un supporto esterno di memoria come dicono quelli bravi io non sono di uno di quelli bravi per cui ve li andate a mettere dove volete dove potete trovarlo se vi si cresce il computer che lo dovete buttare via perché è entrato un fulmine in casa va distrutto non solo il computer ma anche la scrivania vabbè spero proprio di no però può succedere anche quello perché poi si spacca un disco allora o supporto esterno quindi un hard disk esterno una chiavetta un altro computer quello che vi pare a voi una delle disgrazie poi quando capita non capita a me o altrimenti la soluzione che ho adottato io è quella di andarla a mettere in un servizio di cloud esterno quindi praticamente io ce l'ho sul drive di google siccome ho diversi account su google e mi sono fatto anche un account dove ho solo ed esclusivamente questi dati adesso ve lo faccio vedere ecco questo è il mio drive di google quindi praticamente questo è quello spazio di archiviazione che utilizzo è gratuito fino a 15 gigabyte io ne uso solamente 970 nemmeno un giga compresi questi qui e tanta roba l'ho fatto vedere prima con tantissimi file e allora possiamo scegliere due cose per l'archiviazione su drive possiamo andare a sincronizzare le cartelle che abbiamo sul computer con le cartelle che abbiamo sul drive quindi ogni volta che io vado a fare un'operazione su computer in automatico mi si va ad aggiornare anche la cartella su drive e viceversa vado a fare qualcosa su drive mi si va ad aggiornare nella cartella del computer questo è una cosa che per questo tipo di attività io mi sento di sconsigliarvela cioè no non fatela perché sbaglio qualcosa sul computer cancello qualcosa che non voglio cancellare non me ne accorgo me ne accorgo dopo nel frattempo mi si è cancellata anche dall'altra parte si potrei recuperare qualche versione precedente su drive però è meglio non farlo quindi facciamo un backup ce lo ricordiamo magari una volta ogni tanto ci mettiamo magari un alert da qualche parte quando cambiamo qualcosa oppure se andiamo a fare dei cambiamenti sostanziali sul nostro laser cosa facciamo ci andiamo a fare quel salvataggio di quel felettino piccolino sulle preferenze e andiamo a portare quei due o tre cartelle andiamo a copiare quelle due o tre cartelle o quei file all'interno delle cartelle sul drive in modo che non corriamo il rischio di perdere qualcosa di rovinare qualcosa eccetera eccetera quindi ripeto non sincronizzate drive con questa cartella che avete sul computer perché se combinate qualcosa vi sbagliate cancellate un file su drive o sulla cartella dopo da una parte dall'altra non c'è se da una parte c'è ancora potete sempre recuperarla quindi ecco questi sono i miei consigli per gli acquisti che sono gratuiti perché è gratuito questo servizio allora torniamo indietro e vi dico un'altra cosa io sto utilizzando adesso la 1.5.06 di Lightburn che è quella che è in vigore in questo momento io sono sempre aggiornato anzi forse a volte sono un pochino più avanti perché ho già anche la 1.6.00 dove vi faccio vedere adesso che questo menu qua quello del non ci sarà più apri cartella preferiti export ma saranno raggruppati tutti per cercare di non fare un menu lungo lungo la Lightburn ha deciso di accorciare c'è solo un menu che si aprirà come questo dove ci sono questi qui sono i file recenti ecco in quel file di delle preferenze ci sono anche file recenti quindi vi va a ricaricare anche quegli elenchi lì quindi diciamo che Lightburn oltre a salvarci i progetti mentre stiamo progettando ci salva un po' tante cose però sta a noi cercare di mantenercelo salvato anche su quelle cose che Lightburn non salva perché io se per esempio mi perdo una libreria perché la libreria in una cartella particolare non è all'interno di Lightburn ma Lightburn la va a cercare in qualche posto se io me la cancello di qua poi è persa se mi sbaglio combino qualcosa quindi non la voglio fare più lunga di quello che non deve essere io adesso spero di esservi stato utile con questo video mi raccomando se vi organizzate così è molto più semplice trovare le robe e non perdere e quindi diciamo che il bagnino è intervenuto per salvare chi stava annegando e ogni tanto succede di doverlo fare chi stava annegando perché si è perso qualcosa si è dimenticato di come si fa a ruotare o c'era il mare grosso vabbè io vi saluto se questo video vi è piaciuto un like iscrivetevi al canale con la campanellina eccetera ma iscrivetevi al canale non costa niente siamo in 7000 sul gruppo facebook siamo in 3006 dove sono gli altri 3004 che non trovo quindi allora forza iscrivetevi tutti e se no vengo a casa a trovarvi poi iscriviti davanti a me no scherzo va bene adesso vi lascio e vi do appuntamento alla prossima volta ciao a tutti